Ciao Doni, mi faresti Manuel Arcuri dal suo Airstylist Personale? E come mi posso rifiutare di riprodurre Manuel Arcuri sul mio cappuccino? La bellissima Manuel Arcuri! E certo che sì, ti presento il cappuccino ufficiale di Manuel Arcuri dal barista di TikTok! Io volevo fare tantissimi complimenti a Tony, il barista di TikTok! E' riuscito a creare, no sentite bene questa cosa, a disegnare l'immagine del mio volto sulla schiuma di un cappuccino! Sei veramente unico, incredibile! Tantissimi complimenti e voglio ringraziare il mio parrucchiere Domenico Visone che mi ha fatto questo regalo, questa sorpresa! Totalmente inaspettata! E Tony, hai un talento unico al mondo! Complimenti, complimenti! Ti mando un bacio grande e grazie ancora! No vabbè, sono contentissimo col mio cappuccino di sergi giusto! E ancora più contento delle belle parole che ho usato nei miei confronti! Grazie, grazie di cuore! Ah dimenticavo, il bacio mi è arrivato! E ricambio con un saluto e un abbraccio dal barista di TikTok!